Sono stati annunciati i finalisti della cinquantesima edizione del premio Flaiano. Per la sezione Over di Narrativa, la terna è composta da Dario Ferrari con La ricreazione è finita di Salario Editore, da Giuseppe Lupo con Tabacco Clan e Maddalena Vaglio Tanet con Tornare dal Bosco, entrambi di Marsiglio Editore. Per la sezione Under 35 finalisti sono Edoardo Pisani con E ogni anima su questa terra, edito da Castelvecchi, Nicola Cosentino con Le tracce Fantasma, edito da Minimum Fax e Beatrice Salvioni con La malnata di Einaudi. La giuria ha rilevato come questi giovani scrittori provengano già dal mondo della letteratura. Molti sono dottorandi, insegnanti e persone che comunque lavorano nell'ambito, come dicevo, della letteratura, quindi diciamo un po' il germe della narrativa si sta anche modificando. Faremo in modo che il premio di Under 35 abbia sempre maggiore sviluppo, anche quello Over ha avuto la sua importanza, sono presenti tutti i libri che hanno, diciamo che si sono contraddistinti nella stagione letteraria di quest'anno. Oltre alla giuria tecnica preseduta da Renato Minore ci sarà anche il giudizio della giuria popolare. Il 25 giugno prossimo all'Aurum. Premi speciali a Carlo Verdone, alla scrittrice scomparsa Ada D'Adamo, che in come Daria racconta il dolore, la malattia, il senso di impotenza, amplificati da un sistema che non include. È un premio alla carriera, va a Edith Brook. Dei premi internazionali è nata anche una bella iniziativa. La prima edizione del festival di giornalismo e fotografia presso il Media Museum con interventi al Circus come quello di Gabriella Simone e di Giovanna Botteri. Amiche trentennali, seppure da realtà televisive diverse e distanti, Rai e Mediaset, che in questo video annunciano il loro ritorno a Pescara, ma anche un augurio speciale. L'anno prossimo non sarà più Media Museum, sarà Moc. Quindi questo sarà un bellissimo posto pieno di cultura, di cinema, ma non solo? Sì, però è il problema. Perché questa è la città di Flaiano? Sì, non solo. Non solo? Pescara. Sai che hanno una cosa tipo la macchina da scrivere di John Fante? Sì, ho capito, però il problema è che li vedi come sono gli scalini, li vedi come siamo messi, lo vedi? Perché qui bisogna sbrigarci, perché l'anno prossimo, quando torniamo, deve essere tutto pronto, tutto pronto. Tu non potrai essere vestita così. No, infatti. Nemmeno io. Benvenuti al Moc. Al Moc.